Discesa In un'armoniosa composizione di personaggi ed elementi si contempla la scena della discesa di Cristo, ancora inchiodato ad una croce che unisce la terra al cielo. Il corpo di Cristo, finemente dettagliato in tutti i suoi aspetti anatomici, esprime grande realismo. Due suoi seguaci sorreggono il corpo e, all'estrema destra, appare il discepolo amato con il Vangelo in mano, che ci ricorda, e che ha visto ne rende testimonianza. Altri elementi simbolici si uniscono al dramma divino. Angeli con incensieri, il sole e la luna in procinto di ricoprirsi, e nella parte inferiore, il Monte Calvario, da dove Adamo emerge dalla sua tomba redento dal legno che ha portato la salvezza al mondo.